Ora nasconderò le storie a Pier, perché non vuole che faccia salire il pranzo a Pier. A parte che io ho visto un sacco di video che i cagnolini dovrebbero mettersi vicino alla pancia della mamma, mettere la testolina, dare i bacini, Prince, zero, zero, anzi se io lo metto, guardate, vieni a sentire che c'è qua, che c'è un bambino, dai, 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 guarda che bambino, dai, 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 guarda, sentiti, senti, senti, lo senti che c'è un bambino? Lo senti che c'è un cuoricino che batte? E Prince sembra più che altro interessato alla tv più che alla panciona di Giulia che sarà enorme adesso, un grande bacione al prossimo video, ciao!